Elemento SCP-4666, classe dell'oggetto Keter. Procedure speciali di contenimento. Il traffico web e i canali della polizia di tutto il mondo devono essere monitorati per prove e testimonianze dell'attività di SCP-4666, in particolare per quanto concerne case di stalking o resoconti di fenomeni anomali che coinvolgano famiglie con bambini piccoli. Se si sospetta che un evento Vice-Nact sia in corso, la più vicina squadra speciale mobile deve essere inviata per tentare il contenimento di SCP-4666. Si applicano i protocolli standard PDP-8 per il primo contatto con umanoidi. La copertura mediatica delle morti di famiglie attribuite a SCP-4666 deve essere soppressa o falsificata per far apparire queste morti come omicidi non anomali conseguenti a irruzioni domestiche. Prove forensi e istanze di SCP-4666 A, raccolte da agenzie esterne alla fondazione, devono essere confiscate e i testimoni sottoposti al trattamento amnestico. Descrizione. SCP-4666 è attualmente ritenuto essere una singola entità umanoide dotata di vita eccezionalmente lunga, la cui origine è sconosciuta. I sopravvissuti a eventi Weissnacht descrivono solitamente SCP-4666 come un anziano essere umano di sesso maschile e di fenotipo europeo molto alto tra i 2 e i 2,3 metri, caratterizzato da un aspetto estremamente amaciato. L'entità appare sempre completamente nuda anche quando è osservata all'esterno in situazioni di freddo polare. Sebbene la natura e l'estensione delle sue proprietà anomale restino incerte, SCP-4666 sembra essere capace di spostamenti istantanei o quasi istantanei in qualsiasi luogo posto al di sopra di una latitudine di 40 gradi nord e potenzialmente in ogni luogo della Terra. L'attività di SCP-4666 si verifica esclusivamente all'interno di un periodo di 12 notti consecutive ogni anno, da quella posta tra il 21 e il 22 dicembre a quella tra il 1 e il 2 gennaio. Questo periodo è riconosciuto come la fase attiva di SCP-4666. Durante questa fase, in ciò che è definito evento Weissnacht SCP-4666, apparirà vicino a una o più abitazioni poste a settentrione dei 40 gradi nord di latitudine. In tutti gli eventi Weissnacht riconosciuti, queste abitazioni condividevano le seguenti caratteristiche. Posizione rurale isolata, residenza di una famiglia con almeno un bambino al di sotto degli 8 anni e situata in un'area innevata per tutta la durata dell'evento. Gli eventi Weissnacht seguono generalmente il seguente sviluppo. Notti da 1 a 7. I bambini dichiareranno di vedere SCP-4666 nelle vicinanze della casa della famiglia. L'entità sarà tipicamente vista mentre osserva l'abitazione da una certa distanza, ad esempio al di là di un campo o dalle propaggini di una vicina foresta. In alcuni casi i bambini riporteranno di essersi svegliati durante la notte e di aver visto SCP-4666 che li osservava dormire dalla finestra. Notti da 8 a 11. I membri della famiglia, genitori inclusi, riporteranno di aver sentito il suono di passi provenire dal tetto o dalla soffitta. Nella maggior parte dei casi, all'interno delle abitazioni, è percepibile un odore estremamente sgradevole senza che sia possibile identificare alcuna possibile causa di questo fenomeno. Di conseguenza, i genitori inizieranno a sospettare che la famiglia sia soggetta a stalking o, addirittura, che la loro casa possa essere infestata. Notte 12. Durante la notte si verificherà uno dei seguenti scenari. Il primo e più comune vedrà SCP-4666 uccidere tutti i membri della famiglia eccetto un bambino al di sotto degli otto anni, che sarà rapito. SCP-4666 infliggerà ferite invalidanti ai membri della famiglia mentre stanno dormendo, per poi riunirsi in una singola stanza dell'abitazione, dove procederà a ucciderli uno dopo l'altro sotto gli occhi dei familiari. Il metodo di uccisione varia da evento a evento e sarà solitamente preceduto da qualche forma di tortura che sembra rispondere a una ragione ritualistica. Si veda il Raccolta degli eventi Weissnacht più sotto. Il secondo scenario, che è avvenuto in circa il 15% degli eventi Weissnacht riconosciuti, SCP-4666 non farà del male alla famiglia. I membri riporteranno di aver udito passi all'interno della propria casa durante la notte, sebbene nessun segno di ingresso forzato verrà trovato. La mattina seguente i bambini troveranno regali ai piedi dei propri letti. Essi consisteranno in giocattoli rozamente costruiti partendo dai resti di bambini umani. Si veda elenco delle istanze di SCP-4666 a più sotto. Le ragioni, se esistono, secondo le quali SCP-4666 determina l'esito di un evento Weissnacht sono sconosciute. Eventi Weissnacht degni di nota. Luogo, anno e descrizione dell'evento. Villaggio sconosciuto, Croazia. 1498 circa. Non confermato. Un'intera famiglia è stata uccisa con l'eccezione di uno dei figli, età sconosciuta, che è stato rapito. Sebbene non siano disponibili dettagli specifici sull'evento né i documenti recuperati, è stato notato che gli omicidi presentavano forti elementi pagani e che i membri della famiglia erano stati fatti soffrire molto prima della morte. L'arcivescovo che sovrintese l'indagine ha scritto di ritenere che la famiglia fosse stata uccisa nel quadro di un rituale demoniaco. Villaggio sconosciuto, Rupert's Land, oggi in Ontario, Canada. 1689. Non confermato. Un'intera famiglia è stata uccisa, con l'eccezione di uno dei figli, uno dei quali è stato rapito e uno dei quali, sesso femminile età sconosciuta, è scappata durante gli omicidi ed è stato in grado di raggiungere un villaggio vicino. Ha riferito alle autorità che un uomo nudo aveva fatto irruzione nell'abitazione della sua famiglia durante la notte e aveva iniziato a torturarli. Le modalità esatte non sono specificate nei documenti raccolti. Durante l'indagine i corpi dei membri della famiglia sono stati trovati all'interno della casa, appesi a testa in giù dal soffitto. Tutti erano stati dissanguati. Eichstadt, Germania, 1913. Un'intera famiglia è stata uccisa, con l'eccezione del figlio più giovane, maschio, età 3 anni, che è stato rapito. I corpi dei genitori e degli altri 5 figli sono stati trovati in una stalla vicino all'abitazione. Erano stati mobilizzati inserendo coltelli, forconi e altri strumenti appuntiti nei palmi delle loro mani e conficcati sulle pareti della stalla. In seguito le loro lingue sono state rimosse causando emorragia e morte. Il sangue dei membri della famiglia è poi stato utilizzato per tracciare elaborati simboli dal significato sconosciuto sulla pelle del mulo, della capra e di due mucche presenti nella stalla. Gli animali non sono stati colpiti. I vicini hanno detto alle autorità che nella settimana precedente gli omicidi il padre della famiglia ha menzionato di aver trovato tracce nella neve intorno all'abitazione della famiglia, che sembravano essere state lasciate da un piede umano nudo. Plios, Unione Sovietica, 1956. Un'intera famiglia è stata uccisa, con l'eccezione del figlio più giovane, sesso maschile, 4 anni, che è stato rapito. I corpi dei genitori sono stati ritrovati nel salotto dell'abitazione. Sono stati immobilizzati con i loro piedi, tenuti sulle fiamme del camino, per un lungo periodo di tempo, carbonizzando i tessuti dei piedi e mettendo in vista le ossa. Le teste di ciascuno sono poi state schiacciate con un oggetto pesante, attualmente sconosciuto. Centinaia di segni di morsi, ritenuti essere stati inflitti post-mortem, sono stati trovati su ciascun corpo. I corpi sono stati poi coperti con i rami di un abete posto all'esterno della casa, per ragioni sconosciute. Skudesesnaf, Norvegia, 1971. Un'intera famiglia è stata uccisa, con l'eccezione del secondo figlio più giovane, sesso femminile, 5 anni, che è stato rapito. I corpi dei genitori e degli altri due fratelli sono stati ritrovati nel seminterrato. Ciascuno di essi si è visto strappare un arto con forza bruta, prima di essere pugnalato per, precisamente, 39 volte con un oggetto appuntito sconosciuto. è possibile si trattasse di una parte di osso proveniente dagli arti rimossi, con conseguente perdita di sangue e morte. I membri della famiglia sono poi stati eviscerati e i loro intestini tenue e crasso tagliati in frammenti di 30-50 centimetri. I lembi sono poi stati posti a raggera intorno ai corpi. Le feci presenti negli intestini sono state usate per tracciare i simboli dal significato sconosciuto sulle pareti della cantina. Egilstadir, Islanda, 1996. Un'intera famiglia è stata uccisa, con l'eccezione del figlio più giovane, femminile, 4 anni, che è stato rapito. I corpi dei genitori e di 7 altri bambini sono stati trovati all'interno della casa. Ciascuno di essi è stato privato di ampie sezioni di pelle sulla schiena, il collo e l'inguine prima della morte. La pelle rimossa è stata osservata essere parzialmente mangiata. Sono poi stati uccisi per decapitazione tramite una sega a telaio che apparteneva alla famiglia. Dopo la morte, i corpi senza testa dei membri della famiglia sono stati portati nelle rispettive stanze e posti sui propri letti. Ognuna delle teste rimosse è stata posizionata su uno scalino della scala che portava al secondo piano, con le teste dei genitori sui due gradini più alti e quelle dei figli in quelle inferiori, in ordine d'età decrescente. Istanze recuperate di SCP-4666A degne di nota, luogo, anno e descrizione dell'istanza. Nurmes, Finlandia, 1811. Un piccolo tamburo di legno con due bacchette di legno di lunghezza differente. La pelle del tamburo consiste in un frammento di pelle di 390 cm3 appartenente a un bambino umano, tirato con corde fatte di tendini umane. Gallegers, Galles, 1857. Un piccolo coltello di 15 cm di lunghezza, la lama è lunga 6 cm. Scolpito da un singolo pezzo d'osso appartenente a un bambino umano. Simboli dal significato sconosciuto sono stati incisi nell'impugnatura. Makat, Kazakistan, 1903. Un flauto ricavato dal femore scavato di un bambino umano. I fori sono stati apposti a intervalli irregolari lungo la sua lunghezza. Il femore sembra essere stato colorato con sangue umano. Bangor, Michigan, 1960. Una scatola di legno contenente 13 statuette di forma umana, ciascuna di 4-6 cm in altezza, create a partire dalle ossa delle falangi di bambini umani, legate insieme con strisce di tendini umani. Le statuette sono state decorate con capelli umani e piccoli frammenti di vestiti spezzati. I test del DNA hanno rivelato che le ossa appartengono a 18 bambini diversi. Cape Broil, Canada, 1976. Una palla dal diametro di 23 cm, fatta con 19 strati di pelle umana arrotolati saldamente intorno alla testa essiccata di un bambino umano non identificato, di sesso maschile, età 2-3 anni. Gli strati della pelle sono tenuti insieme da resina di pino. Bard, Paesi Bassi, 2006. Un pettine. L'impugnatura è fatta di legno e malamente intagliata. Al posto dei rebbi sono stati posizionati a intervalli regolari 43 denti dal latte umani. I test del DNA hanno rivelato che ogni dente appartiene a un differente bambino. Solo due di questi denti possono essere fatti risalire a vittime riconosciute dei rapimenti di SCP-4666. L'età dei denti varia da alcuni giorni a più di 400 anni. Scoperta. L'esistenza di SCP-4666 e la sua costante attività sono stati scoperti per la prima volta nel 1974 attraverso il programma di riconoscimento delle tracce anomale, allora appena implementato, quando l'analisi ha fatto emergere alcuni casi molto simili di effrazioni domestiche, concluse con la morte dei membri della famiglia, avvenute durante la notte tra il primo e il due gennaio. Approfondite ricerche negli archi civili e delle forze dell'ordine in tutto il mondo hanno successivamente scoperto le prove di possibili eventi Weissnacht per quasi ogni anno precedente, risalendo almeno alla fine del XVIII secolo. La media di eventi per anno è di 3,1. Sono stati inoltre trovati diversi documenti storici che sembrano descrivere l'attività di SCP-4666 prima di questo periodo, in alcuni casi risalenti al II secolo e V in Europa e Russia e al I secolo P e V in Scandinavia. Impronte digitali appartenenti alla medesima entità umanoide sono stati trovati in tutte le sedi degli eventi Weissnacht noti alla fondazione. Questi sono stati associati a un'impronta parziale conservatasi su una macchia di sangue secco su un'istanza di SCP-4666-A recuperata in seguito e risalente al 1873. Le impronte digitali presentano caratteristiche inesistenti nei comuni esseri umani, si veda immagine allegata. Capelli bianchi simili a quelli umani sono inoltre stati recuperati dalle sedi di diversi eventi Weissnacht, sebbene non sia stato possibile estrarre alcun DNA, umano o meno, da esse. Addendum 4666-1. Il 2 gennaio 2018 alcune istanze di SCP-4666-A sono state ritrovate presso l'abitazione di una famiglia a Ona, in Alaska, a seguito della conclusione dell'evento Weissnacht 060198. Tra queste istanze vi era SCP-4666-A-60, che consisteva in una rozabambola di dimensioni umane realizzata a partire dal corpo emaciato di una bambina, alla quale sono state effettuate le seguenti alterazioni. Un vestito fatto di varie parti di tessuto sporco e scolorito è stato cucito intorno al corpo e, in alcune aree, inserito nella pelle. La bocca è stata cucita ermeticamente con un filo fatto di tendini umani e le labbra colorate di rosso con una soluzione consistente primariamente di sangue umano. Le unghie di un altro bambino sono state incollate sopra le unghie del corpo con resina di pino e sono state colorate di rosso con il medesimo colorante a base di sangue umano. Tre dita sono risultate mancanti. L'intero scalpo è stato rimosso dalla testa e sostituito con lo scalpo di un altro bambino con una lunga chioma bionda cucita sulla testa. I capelli sono stati legati in due trecce. Entrambi gli occhi sono stati rimossi e due grandi ciottoli rotondi, dipinti grezzamente come due occhi, sono stati inseriti nelle orbite vuote. Dopo essere stata osservata dalla famiglia, la bambina, da cui la bambola era stata costruita, è stata riconosciuta essere ancora viva, per quanto priva di sensi. Le autorità sono state informate e la bambina trasferita al Bartlett Regional Hospital di Jeuneau, in Alaska, dove è sopravvissuta per 18 ore. Due agenti della fondazione sono stati inviati e sono stati in grado di intervistare il soggetto. Si veda la trascrizione dell'intervista più sotto. A seguito della morte del soggetto, il suo corpo è stato confiscato dagli agenti e tutti i testimoni sottoposti al trattamento amnestico come da procedura standard. Il test del DNA ha rivelato che il soggetto era Ekaterina Morozova, di sette anni, una vittima di rapimento da parte di SCP-4666, già nota alla fondazione, che era stata presa dalla casa della sua famiglia a Dubovka, in Russia, il 2 gennaio 2016. L'autopsia del corpo del soggetto ha evidenziato tracce di grave malnutrizione nei due anni seguenti il suo rapimento, che hanno portato a un notevole arresto della crescita. Il peso era di soli 15 kg e l'altezza di soli 90 cm. La pelle presentava diverse cicatrici e bruciature ed erano presenti due fratture ossee, la tibia e l'ulna sinistra, che non sono state ricomposte e sono guarite in modo improprio. Le mani erano gravemente incallite. La causa della morte è stata attribuita a un'insufficienza multiorgano causata da una profonda e prolungata malnutrizione. Accesso al documento 4666 V35814, trascrizione dell'intervista. Trascrizione audio 4666 06201, data 2 gennaio 2018, ora 23 e 27 fino a 23 e 49, luogo Bartlett Regional Hospital, Juneau, Alaska. Intervistatore, agente Anthony Kowalski. Era presente l'agente Susan Muse. Soggetto, Ekaterina Morozova, SCP 4666 A0960, sesso femminile, 7 anni. Note. Il soggetto ha riacquistato conoscenza per un periodo di circa 30 minuti prima di spirare, durante i quali è stata intervistata. Il personale dell'ospedale aveva precedentemente rimosso il filo che era stato cucito intorno alle sue labbra, permettendole di parlare. Nonostante la somministrazione di una dose di morfina, il soggetto si è dimostrato estremamente coerente durante tutta l'intervista. Il soggetto non comprendeva l'inglese e inizialmente parlava solo un linguaggio non familiare agli agenti Kowalski e Muse. Dopo alcuni minuti, il soggetto ha comunque cominciato a rivolgersi agli agenti in una forma elementare di russo. L'agente Kowalski, che parlava russo a livello scolastico, è stato così in grado di condurre l'intervista senza la necessità di un interprete. Inizio trascrizione. Ciao, sono Anthony. Come ti chiami? Mi riporterete da lui? No, promesso. Sono qui solo per parlare con te. Non voglio tornare. Non devi. Sei al sicuro adesso, Mishka. Puoi dirmi cosa ti è successo? Ricordi la notte in cui è venuto a casa tua? Ricordo. Ha fatto male a mamma e papà e Katia e Giuliana per tanto tempo. e tanguinavano. Dopo che hanno smesso di urrare, mi ha messo nella sua borsa. La sua borsa? Aveva una grossa borsa. C'erano altri bambini nella borsa. Penso che siamo andati in altre case. Ho sentito la gente gridare all'infuori della borsa per tutta la notte. In ogni casa metteva un altro bambino nella borsa. Poi finita la notte ci ha portati via. Dove vi ha portati? Sottoterra. Profondo. Sottoterra? Intendi una cantina? Profondo. Tutto era terra e fango e ghiaccio. Ossa dappertutto. Tutto congelato. Non riuscivo a dormire perché era troppo freddo. C'erano molti altri bambini lì con te. Tanti bambini. Tanti tunnel. Tanti buchi. Ma non potevo vedere tutto. Non potevo vedere l'altra. Troppo buio. Il mio buco era con René e Elcla e Sasha e Paul. Facevano i giocattoli insieme. I giocattoli? Se non fai i giocattoli non mangi. Non smettere di fare i giocattoli. Non addormentarti. O ti fa male. Lui ti fa male? Come? Ti colpisce. O ti brucia. O ti morde le dita e te le strappa. O ti cucina sul fuoco della sostanza e ti mangia. Ha mangiato Filippo e Sally. E tu? Come ti è successo questo? Come ti è successo? È stato lui a farlo? Lo hanno fatto René e Elcla e Sasha e Paul. Dovevano farlo. Perché? Mi sono ammalata. Quando non puoi fare i giocattoli diventi giocattoli. Fine trascrizione.